Nemmeno il maltempo e la neve ha condizionato la gara di Remergometro che l'apriva il tredicesimo Memorial Don Angelo Villa. La manifestazione si è voluta stavolta ovviamente alla coperta nella palestra della Forum e c'è stato successo. 12 le squadre e le scuole partecipanti. Ci siamo divertiti per un'ora e mezza, avevamo sei campioni partecipanti e è stata un'ora e mezza di canottaggio vero e di agonismo divertente. E domani si ricomincia insomma, c'è la gara dell'otto e poi la gara del singolo. Sì, abbiamo purtroppo un meteo che rende tutto un po' più difficile, speriamo di riuscire, per ora è tutto confermato, speriamo di riuscire a portare a termine. L'anno scorso, sabato, pioveva, quest'anno nevica, speriamo che l'anno prossimo ci sia il sole. Anche se la gara si è voluta al coperto, Omegna scopre davvero di essere una città di lago. Assolutamente, bella questa sinergia con Orta e quindi con il lago d'Orta, dove abbiamo visto veramente stamattina lo spirito di Don Angelo di questa manifestazione. Nel senso, i ragazzi e lo sport è quello che voleva Don Angelo. Vedere campioni, ragazzi delle scuole medie, ma anche ragazzi diversamente abili, divertirsi e giocare, ma anche avere uno spirito sportivo, veramente è una bella manifestazione. Qui sono i campioni che parteciperanno in questi due giorni che restano? Qui il Remergometro l'ha vinto insieme alla sua staffetta con la scuola di Orta San Giulio, Ivo Yanakev, che è un campione della Bulgaria. È arrivato terzo in singolo alle Olimpiadi di Atene e quindi è sicuramente un grandissimo nome di questo sport. Ci saranno moltissimi altri sia in otto domani con degli otto un po' misti fatti per divertirsi tra campioni e ex campioni e poi soprattutto la domenica con la partenza del singolo che abbiamo superato un centinaio di iscritti per i grandi e 50 per i ragazzini. Grazie 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 Grazie